Sì, sì, sapevamo, finalmente si gioca, inizia l'avventura, quindi iniziano i punti che contano, quello che è il nostro clima, quindi siamo partiti il 7 luglio, è passato tanto tempo, adesso siamo pronti. Come ci arriviamo? Aspetto a come siete partiti? No, ci arriviamo, è chiaro, ci arriviamo anche un pochino meglio dopo le ultime prestazioni, comunque non avendo, come vi avevo detto all'inizio, ho fatto tantissime partite, tantissimi impegni importanti, però la squadra credo che debba interpretare bene la gara, nella maniera giusta, con il piglio che mi ha dimostrato in questi ultimi giorni. e sapendo che ci saranno delle difficoltà, ma proprio con questa attenzione, con questa determinazione, con questa voglia possiamo sopperire alle difficoltà iniziali che è normale che ci possano essere in una squadra completamente nuova. Ripetere per esempio la prestazione offerta con il Chievo, proprio sotto il profilo della manovra e dell'atteggiamento sarebbe l'ideale. Sì, no, sarebbe l'ideale, è indispensabile, è diverso, l'ideale no, dobbiamo farlo perché è da lì che si parte, quindi quando sei nuovo, ma questo non solo noi, tutte le squadre, in questo momento tranne qualcuna che comunque ha, ad esempio il Trapani, che è una squadra che comunque è consolidata, nel senso sono già oramai tre anni, quattro forse che giocano insieme e magari queste squadre che hanno un piccolo vantaggio, le altre devono partire da quella componente che abbiamo detto e che abbiamo anche visto, perché solo con quell'intensità, con quella determinazione, con la voglia e la capacità di soffrire si può inizialmente sopperire a quelli che possono essere le normali difficoltà di una squadra che è nuova. Poi diciamola tutta, finalmente si chiude il mercato, lunedì, siamo arrivati anche alla fine, no? No, no, ma oggi non mi sembra assolutamente giusto, io ho solo in testa una cosa che è la partita con il Trapani, quindi in questo momento tutta l'attenzione nostra, tutte le nostre energie devono essere rivolte a questo scontro, a questa sfida. Mi sei parlato sul Trapani. Sì. Sì, sì, devo dire che furono... due partite diverse, ma a me non piace guardare indietro, guardare quello che è stato, l'importante è guardare il presente, il presente è che noi ci presentiamo a una sfida contro una squadra importante che, come ho detto prima, ha dalla sua, e quando dico importante è perché ha dalla sua la continuità, che credo che in questo campionato sia una delle cose più importanti, è un piccolo valore aggiunto partire con una squadra che ha comunque consolidato e ha un organico che oramai si conosce bene. più che altro bisogna guardare noi, cosa dobbiamo fare, i ragazzi lo sanno, una squadra che deve sapere rimanere corta, deve sapere chiudere bene gli spazi perché loro giocano un 4-4-2, come ho detto prima, con giocatori che al di là di quello che poi in questo momento ci può essere qualche assenza o meno, però sono giocatori che sono in grado di cambiare la partita, dove c'è gamba, c'è velocità, sanno ripartire molto bene in contropiede, quindi queste cose le sappiamo, le abbiamo preparate e dobbiamo assolutamente essere molto bravi nella gestione della gara. Mister, questa settimana ci sono stati anche l'arrivo di Zampano, il recupero di peso di Edda Silva, questi tre rinforzi tra i virgolette del futuro periodo sono già pronti per giocare, modificheranno qualche tua scelta rispetto alla partita che veniva scorsa contro il Chievo? No, allora, vabbè, Zampano sta bene, però è appena arrivato, è disponibile, vedremo l'utilizzo, Pesoli, devo dire che questa settimana è rientrato per la prima volta con il gruppo, però l'ho visto molto bene, quindi anche lui è disponibile. Da Silva leggermente un pochettino più indietro perché comunque un po' il fastidio alla caviglia se lo sta portando dietro, però diciamo che è recuperato anche lui. Un'altra cosa, è cresciuta, sembra almeno anche parecchio la condizione di Mecchioli, un altro motivo di più di difficoltà per fare la formazione? No, no, ma io quando ci sono giocatori che stanno bene non vado mai in difficoltà, vado in difficoltà se ci sono giocatori che non stanno bene, però no, no, ma non avevo dubbi, piano piano è chiaro che la condizione migliorerà sempre, ma ripeto, in questo momento la cosa più importante è l'atteggiamento, perché l'atteggiamento è quello che fa la differenza, specialmente negli inizi dei campionati dove, ripeto, ci possono essere scorie, difficoltà legate a tanti fattori che è inutile stare qui a elencare, compreso la preparazione, queste cose, però non devono essere assolutamente alibi e l'atteggiamento è quello che fa la differenza secondo me. Il pescare è pronto al 70%, al 70%, al 100% secondo lei? No, io non mi piace fare percentuali, il pescare è pronto, il pescare è pronto e siamo anche noi, io sono curioso, sono curioso perché credo che noi nell'affrontare la partita la curiosità sta, la mia curiosità sta proprio in quello che credo questa squadra possa fare e anche vedere a che punto è, quanto noi stiamo consolidando di settimana in settimana, quello che io voglio. A proposito di Pachiorna, la virgoletta riflessione di Pachiorna, quella che dice un po' di nervosismo oppure a Pachiorna, la virgoletta riflessione di Pachiorna, la virgoletta riflessione di Pachiorna, No, io ho già chiarito, con la squadra e con il giocatore, quindi noi abbiamo delle regole e mi piace che tutto ciò che viene fatto e viene detto, viene sempre detto e fatto negli interessi della squadra e del noi e non negli interessi personali, quindi questa è una cosa chiusa, già chiarita immediatamente. La domanda che devo porre è una domanda, adesso è preso pure, la domanda che ha letto Orlando e la diventazione di Pachiorna, sulla scorta della sua esperienza, la seconda stagione, se ne ho detto, la mia esperienza è quella della nostra, per me, le sue conoscenze sono tante, quindi non è difficile dare una votazione. Il lotto delle squadre partecipano in quest'anno, rispetto a prete di anni scorsi, in che contesto le inserisce, più forte quest'anno, meno forte, cambiando un'armada, si è stata un'armada si è stata un'armada? Io devo dire la verità, a me quando si compete, ma non perché non sto molto a guardare chi ha preso lo scettro della squadra più forte, comunque la do volentieri agli altri, io quando vi dico i fari spenti, sta nel fatto che, magari mi ripeto ancora una volta, ma io a chiacchiere ho vinto sempre poco, e quindi in questo momento si potrebbe stare qui a dire mille cose, su noi e sugli altri, io preferisco vedere il campo, cosa direi. Io so solo questo, che Virchel è un giocatore del Pescara, domani andrà in campo e sono convinto che farà una gran partita. Tra l'altro, se è un vittorio di Mettievo, se è una tua interpretazione, penso molto buona proprio per mezzare, che è proprio quello di Mettievo. Ripeto, la mia sensazione è che sia un giocatore che ancora può dare tantissimo, sotto tutti i punti di vista, sia tatticamente che migliorare, sia proprio nell'aspetto tecnico-tattico e anche nel diventare un giocatore importante, anche nella testa secondo me. Però questo non lo chiedo solo a lui, lo chiedo a tutti. Io ripeto, io non voglio veramente, perdonatemi, ma in questo momento sono solo concentrato su quello che è domani la gara, non voglio assolutamente nemmeno lontanamente pensare… Se lo fa giocare, domani sembra che non parte. Ma io ripeto, siccome leggo un po' di giornali, il mal di pancia, noi il mal di pancia non li dobbiamo avere. Noi domani ci deve essere gente che va in campo con gli occhi della Tigre perché sennò è un problema grosso. Ma io credo che… Sì, 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 devo dire questo, è una riflessione molto giusta. Però, ripeto, a me piace che la squadra rimanga corta, mi rimanga vicina nelle distanze. È chiaro che ancora siamo lontani da quello che io vorrei, quindi magari mi viene in mente il secondo tempo con il Chievo dove forse magari la squadra mentalmente sbagliando pensava che facendo qualche metro indietro si potesse mantenere il risultato. e questo purtroppo il calcio ha degli equilibri, se non pressi più in avanti sei costretto ad andare all'indietro. Quindi questo è una regola. Noi domani dobbiamo cercare di fare una partita di equilibrio, di vigore, ma anche di coraggio. L'inseriere di Fiorillo ha parlato di quei compagni che avevano un po' di impressione in positivo, ci prendono anche Ciotti sui palici. Per lei che è il tipo di campionato che aspetta questi due ragazzi che l'anno scorso Ciotti c'è anche un paio di qualità? Io quando sono arrivato ho sentito tante cose, ho guardato chi aveva giocato e chi non aveva giocato, insomma dei ragazzi che per me in questo momento domani andranno in campo sia Napolitano sia lo stesso Caprari, Pippo Maniero, Dario, Uros, l'anno scorso non erano dei titolari, non hanno giocato sempre, ma io non sono abituato a guardare quello che i giocatori hanno fatto, io guardo il presente. I ragazzi mi hanno dato disponibilità, si stanno allenando bene, sono ricettivi, hanno delle qualità, dove possono andare lo sanno loro, il mio compito è quello di migliorarli, di dargli quello che serve per fare qualcosa di importante, poi ripeto ci vuole sempre la volontà da parte del giocatore e in questo momento ho trovato disponibilità. Inoltre l'anno scorso hai detto molte partite dei campionati comunicanti, grazie a gente di entrata, è chiaro ci vuole poi un'opportunità, ci vuole la cura dell'adonatore, ma ci vuole credo anche che il giocatore capisca che può essere determinante anche giocando tra il che è molto in 2-2-90 e lì l'avete ottenuto nella linea di Coppa Italia ci sta poi magari il campionato è un'altra cosa questo gruppo secondo te l'ha capito mi sento mai tanti giocatori che possono sbagliare il partito io sono sempre molto realista in queste cose quindi quando sento dire cambio azzeccato allora mi verrebbe da dire allora ho sbagliato prima a non metterlo in campo invece in realtà non è il cambio azzeccato è che se i giocatori sono accesi e stanno bene li alleni bene e sanno di essere dei titolari possono entrare in campo anzi no possono, devono entrare in campo e andare ancora più forte di quello che è uscito perché se levi un giocatore io personalmente spesso non levo i giocatori perché non stanno facendo bene levo i giocatori perché anzi mi piacerebbe sarebbe bellissimo levare i giocatori che si sono esauriti, cioè hanno dato tutto quando uno ha dato tutto ci deve essere un compagno che entra dentro ed è pronto questa è una cosa che non si costruisce in un minuto però è uno dei dei punti di forza che io cerco di mettere dentro la squadra è chiaro che io non voglio i giocatori chi sta fuori non deve essere contento li voglio incavolati però li voglio accesi voglio giocatori che poi sappiano andare in campo e cambiare la partita assolutamente è impensabile che in questo momento si possa si possa non fare è chiaro che in questo momento di stagione magari il terzo cambio a volte è un po' rischioso perché comunque magari faccio un esempio domani comunque c'è anche Grillo che lo sapete io già pensavo di fargli fare un tempo con il Chievo il ragazzo ha fatto tutta la partita però è un ragazzo che è arrivato da poco quindi magari è un tecnico in un momento così delicato dell'inizio dove deve anche stare attento alle energie magari a volte certi cambi possono essere anche influenzati dalla tenuta della squadra quanto peserà l'assenza di Lazzaric calcolando che è stato uno dei migliori se non c'è ma io non sono abituato a parlare di chi non c'è perché credo che chi andrà in campo farà molto bene è chiaro che Lazzaric ha dimostrato c'è da lavorare tanto perché è un giocatore che deve lavorare tanto deve capire ancora il ruolo deve entrare deve entrare all'interno del ruolo però è un giocatore che ha che ha gamba è in grado di di aprire campo o di creare superità numerica quindi è un giocatore importante però non ce l'abbiamo pensiamo a chi invece domani andrà in campo e a quelli che dovranno andare in campo sia a chi partirà subito che subentrerà che devono come ho detto prima fare una partita importante Diciamo che diciamo che non siamo siamo un pochettino indietro ma volutamente in questo momento perché la pallina attiva è una situazione importante perché oramai nei numeri c'è una percentuale importante sia di realizzazione quindi di realizzazione vuol dire anche di 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 subire no e allora bisogna prestarci attenzione e abbiamo iniziato un po' a lavorarci piano piano ci arriveremo sicuramente perché comunque ci vogliono dei fattori importanti e qui ce li abbiamo ma io non rispondo ha sempre detto di aver necessità di un centrocampista con determinate caratteristiche alla buca e non proprio lui o comunque di quelle caratteristiche si parla tanto di guana e all'occhio del profano ha caratteristiche diverse può essere un giocatore adatto mi dispiace veramente non voglio essere no ma non sarebbe giusto in questo momento parlare di di mercato credetemi e la partita si gioca tra cinque minuti perché siamo già lì e quindi è rimasta è rimasta ancora un allenamento oggi pomeriggio domani mattina faremo ancora qualcosina al campo allo stadio e questa è la cosa più importante poi ci sarà il tempo per fare altre valutazioni però la domanda si può fare sul buca deluso dall'atteggiamento di questo ragazzo a cui lei è legato no no non voglio assolutamente io io non sono abituato allora guardate forse avete già visto io non sono abituato nella mia vita a portare né rancore né niente siamo tutti degli uomini dei professionisti ognuno è libero di fare le scelte io posso solo fare uno in bocca al lupo al giocatore ma ripeto non è che io avessi chissà cosa era un fatto di caratteristiche però la stima rimane invariata quindi senza esagerare la stima del giocatore no no stiamo a parlare con un giocatore importante assolutamente noi ripeto dobbiamo assolutamente far passare un messaggio che tutti siamo importanti ma nessuno è indispensabile qua un'ultima cosa volevo chiedere una curiosità durante il precampionato molti ragazzi proprio più giovani del gruppo comunque hanno dato una mano giocare con gli amichevoli sono allenati tutto il periodo con te con la prima scuola parlo di Mancini Sedasi ma anche magari Bordor o di Zapatino che futuro c'è per loro in questo gruppo rimarranno con voi lavoreranno con voi aspettando una chance per maturare anche gli allenamenti quotidiani che rimaneranno in primavera no io questa cosa qui devo dire cerco sempre di essere molto aziendalista nel senso che bisogna valutare bene il bene del ragazzo perché a volte ci sono delle situazioni in cui magari faccio un esempio un giovanissimo come Selasi che è un 96 può anche per dire rimanere in un organico perché comunque è molto giovane e questo ti può aiutare a crescere magari ci sono dei ragazzi che hanno già magari fatto un percorso e magari possono sarebbe aspicabile andare a fare partite perché poi i giocatori si migliorano solo giocando anche allenandosi ma poi la gratificazione nel premio della gara è fondamentale specialmente per il giovane quindi questo ora valuteremo il senso che non c'era quindi facciamo me dal punto di vista a questo momento non si è una squadra ma troppo che che situazione è comunque paradossale è difficile io credo io sono per le io personalmente sono per il rispetto delle regole ci sono delle regole ci saranno le appunto le situazioni per valutare chi a chi spetta questo posto questo io spero che sia veloce perché insomma ma credo un po' per tutti ma principalmente per l'immagine del calcio che ha bisogno di risposte veloci insomma ecco noi siamo un pochino lenti nella nostra credo che sia auspicabile da parte di tutti ma che venga trovata una soluzione no no perdonatemi io guardate devo dire la verità che io in questo momento no ma ma me ne faccio io ammenda mi trovereste anche impreparato devo dire la verità perché sono talmente concentrato sul Pescara e su quello che è il nostro percorso che vi assicuro ne faccio ammenda mi trovate un po' impreparato su questo argomento la formazione è chiaro io non è che sarò qui però c'è ancora un allenamento e poi c'è anche domani vi ho detto prima cosa voglio vedere voglio vedere gente che abbia l'occhio voglioso famelico è importante non grazie a tutti grazie a tutti Grazie.